Resto in podcast serale per parlare del GP di Turchia che si è a corso oggi nel sedicesimo episodio del duello mondiale tra Lewis Hamilton e Max Verstappen Ancora una volta a cambio di leadership in testa della classifica, Max Verstappen adesso è leader con sei punti di vantaggio su Lewis Hamilton abbastanza in colore Va detto che la strategia Mercedes oggi per quanto riguarda il pilota inglese non è stata del tutto eccezionale Ne parleremo però nell'analisi di questo video che va a celebrare la decima vittoria di carriera di Valtteri Bottas Secondo pilota della Mercedes che comunque si toglie la soddisfazione della prima vittoria stagionale Come due anni fa o meglio come l'anno scorso in Turchia ancora una volta le condizioni non sono propriamente idealiache Si è corso per il secondo anno consecutivo all'Istanbul Park nel 2020 ricordiamo una gara folle sotto condizioni di diluvio universale Con la vittoria di Hamilton che se non sbaglio conquistò proprio lì il titolo del mondo numero 7 Ancora una volta come vediamo da queste immagini anche la partenza e tutta la gara in realtà dell'edizione di Turchia 2021 Si è svolta interamente sotto l'acqua Tutti i partiti sono partiti con gomme intermedie e l'asfalto non ha drenato in realtà al meglio Tanto è vero che per tutta la gara i piloti hanno terminato praticamente con le stesse gomme Già dalla qualificazione come si vede Valtteri Bottas partiva già dalla pole position Seconda la Red Bull di Max Verstappen e terzo uno straordinario Charles Leclerc Che a momenti sfiora un'impresa con una strategia che purtroppo però non pagherà ma ne parleremo Manca Luis Hamilton a questa qualificazione semplicemente perché Hamilton ha registrato sì il primo tempo in realtà per davvero in qualificazione Ma per via della penalizzazione a una parte endotermica del motore è stato un retrocesso di 10 posizioni Dunque spazio a Valtteri Bottas che per la verità questa vittoria se la merita è come Perché parte primo, fa il girovaggio all'ultimo giro e arriva sul traguardo per primo E dunque prima vittoria in stagione per il pilota finlandese decima della carriera E dunque per lui suona il Maham, l'inno nazionale finlandese Chi però fa festa per davvero non è la Mercedes ma sono gli altri due piatti sul podio Perché parliamo della Red Bull che piazza Verstappen al secondo posto ma soprattutto Sergio Perez al terzo Ed è un piazzamento importante quello delle due Red Bull che erano presenti in Turchia con una livra bellissima Tra l'altro in onore della prima onda vincente del 65 Perez compie una bella difesa su Hamilton, una delle lotte più interessanti di tutta la gara Che di fatto penalizzerà Hamilton che verrà di fatto costretto anche per questo motivo alla soste box Anche se in realtà non era proprio la scelta più di lì a che tra poco ne parleremo La difesa arcigna di Perez comunque fa il lavoro che doveva fare Dunque Hamilton passa comunque ma con molte molte sofferenze Va bene che Perez è comunque un piatto superiore ma Hamilton sul bagnato probabilmente sicuramente doveva fare di più E comunque il fatto che Hamilton è stato impiato in duelli in generale soprattutto con Perez ma anche soprattutto all'inizio gara con Tsunoda Probabilmente ha bruciato Hamilton di limitare ancora di più i danni perché Hamilton non finirà appunto a podio Ci finiscono due delle Red Bull che vediamo festeggianti nelle immagini Ma Hamilton finirà addirittura quinto dunque cedendo ancora più posizioni In un momento della gara dove di fatto si è deciso tutto nella sosta ai box Un Hamilton che prima della sosta ai box in realtà era in posizione da podio era terzo molto facile E poteva anche azzardare di andare fino alla fine con le gomme della partenza C'è stato poi una grande diattriba tra Hamilton e il box Alla fine il box l'ha richiamato Hamilton è comunque finito quinto Giustificazione del box della Mercedes è stato effettivamente non c'era effettivamente la possibilità Che Hamilton mantenesse la posizione probabilmente perché gli inseguitori stavano andando più forte comunque di Hamilton A un certo punto e questo è vero anche Gasly che comunque ha fatto una buona gara a sesto Guadagnava addirittura due secondi al giro su Hamilton Carlos Sainz che lui invece si è fermato molti giri prima degli altri guadagnava addirittura tre Di conseguenza effettivamente è molto borderline capire effettivamente chi ha ragione e chi no In queste situazioni tendenzialmente gli ingegneri avendo una marea di date di disposizione Possono prevedere al minuto tantissime cose Vedi per esempio quando piove quando si usura la gomma in quella curva piuttosto che in quell'altra Il pilota però va detto che ha le sensazioni migliori in pista in una condizione soprattutto al limite Come questa di Turchia dove effettivamente la pista è vero asciugava poco Pioveva in realtà pochissimo ma appunto l'asfalto non ha drenato abbastanza Di conseguenza non c'erano le chance di mettere gomme da asciutto Hamilton non ti rido dirà addirittura di chiedere espressamente le gomme rosse asciutte per gli ultimi giri Verrà fermato lo stesso gli metteranno le gomme intermedie Hamilton finirà quinto di fatto senza potersi difendere C'è un tentativo di rimonte in realtà nel finale ma alla fine il pilota inglese deve abdicare Hamilton immagino sarà furioso per aver perso dei punti contro comunque un Max Verstappen Che torna leader del mondiale anche se anche Verstappen non ha fatto una prestazione alla Verstappen Ha fatto una prestazione da ragioniere, ha amministrato una posizione molto importante Perché questo Bottas va detto era imprendibile Verstappen capitalizza al massimo una prestazione di Hamilton comunque in colore per vari motivi Parliamoci chiaro, Hamilton in condizioni normali sul bagnato dalle piste alla gente E oggi Hamilton è una delusione del giorno Comunque nonostante questo quinto posto vince meritatamente appunto Valtteri Bottas Che conquista la prima vittoria stagionale nel suo ultimo anno della Mercedes Ripetiamo la decima vittoria della carriera Hamilton perché è una delusione in parte Perché in queste condizioni sul bagnato l'inglese ha sempre dato il meglio di sé Sappiamo che Hamilton è furtissimo sull'asciutto ma ancora di più sul bagnato Ed effettivamente Hamilton è stato imprendato fin troppo in duelli Dove effettivamente in condizioni normali l'avversario non avrebbe dovuto avere diritto di cittadinanza contro Hamilton Il duello più esemplificativo è quello dell'inizio della gara contro Yuki Tsunoda Che comunque abbiamo scoperto essere un gran difensore soprattutto sul bagnato Ma Hamilton ha perso per esempio 5-6 giri appunto dietro Tsunoda Aggiungiamo quelli perse dietro Perez Probabilmente si rassume anche lì il fatto che le gomme di Hamilton sono consumate Va detto che le gomme intermedie erano letteralmente sulle tele Il battistrada delle gomme intermedie di Hamilton era liscissimo Di conseguenza era anche difficilissimo probabilmente rimontare con gomme finite pur negli ultimi giri Fatto sta che probabilmente con gomme intermedie nuove si sperava che Hamilton avesse un passo superiore Che non è avvenuto e dunque quinta posizione per Hamilton e podio per le due Red Bull Che di fatto capitalizzano non solo di aver presentato la livella del campionato Ma appunto una prestazione di un Hamilton che veramente sul bagnato poteva dare molto molto di più E paradossalmente appunto Hamilton è una delusione del giorno di questo gran premio Insieme a un altro pilota che è finito after the music Ovvero Daniel Ricciardo Qui anticipo un attimino Il mio premio Daniel Ricciardo è una delusione del giorno Perché nella cerchia di piloti che partiva nelle retrovie insieme a lui È stato quello che ha fatto le prestazioni peggiori Ci ha messo una vita a sbarazzarsi di piloti molto più lenti di lui E nonostante aver cambiato per primo le gomme intermedie L'italo australiano ha veramente dimostrato un passo orrendo E non era assolutamente un fattore quando piloti che sono partiti in fondo Come lui vede per esempio Carlos Sainz hanno fatto una gara straordinaria Carlos Sainz a un certo punto ha fatto dei giri veloci sotto l'1 dei 32 In questa pista di Turchia e poteva puntare a qualcosa di più Peccato che anche per Carlos Sainz il moretto Ferrari ha deciso di poicottargli la gara Con un p-stop tremendo Altrimenti probabilmente Sainz sarebbe meritato più di un'ottava posizione E di conseguenza comunque va premiato il lavoro della Ferrari Perché si sono ritrovati una macchina in ogni caso competitiva Perché Sainz finisce ottavo ma ha fatto una stagia diversa diciamo di passo L'Eclerc ha potuto sperare addirittura nel podio Il problema è che probabilmente anche per le stesse votazioni che hanno fatto in Mercedes Non c'era probabilmente la chance di difendere questo podio con delle gomme pressoché finite Alla fine l'Eclerc finirà quarto Ma è probabilmente una delle migliori gare del Monegasco da tante gare a questa parte Dunque sicuramente la Ferrari in generale si merita un bel encomio per questa gara Anche se evidentemente il mio rider del giorno Driver del giorno meglio perché siamo sulle quattro ruote Non può che essere il povero Valtteri Bottas Perché per una volta che fa una gara degna di un piotto di Formula 1 Che comunque vince va effettivamente celebrato Bottas è un piotto che raramente peraltro concretizza le qualificazioni Spesso dalle pole position ha sempre raccolto molto molto poco Qui non c'è stata storia Valtteri Bottas ha vinto, ha fatto il giro veloce Ha conquistato la pole position Dunque per una volta va dato l'encomio di driver del giorno Per la decima vittoria della stagione del finlandese Gli altri piazzamenti a punti Un po' li abbiamo detti ma li andiamo a repilogare Leclerc finisce quarto abbiamo già detto Everton quinto abbiamo già detto Sesta posizione per Pierre Gasly Peraltro penalizzato di 5 secondi per il contatto al primo giro in partenza Su Fernando Alonso che ha fatto una straordinaria qualificazione Parnino nei primi 5 Settima posizione per Lando Norris In generale la McLaren oggi è stata veramente un fattore inesistente Ottava posizione per quanto riguarda Carlos Sainz L'abbiamo già detto Uno dei migliori piloti effettivamente in questa competizione Nono è Lance Stroll Che comunque sul bagnato in Turchia evidentemente si trova bene Ricordiamo che l'anno scorso il canadese Fece addirittura una clamorosa pole position Chiude la zona punti Ernst Banocon che comunque ripete il risultato di Monza Per una Formula 1 che oramai va ad avviarsi verso l'ultima fase finale Peraltro Formula 1 che ha aggiunto un gran premio in più Perché si correrà dopo il Brasile in Qatar Per quanto riguarda il circuito di Los Ailes Ci sarà dunque il trittico medio orientale tra Qatar, Arabia Saudita e Abu Dhabi Peraltro il Qatar è stato insegnato di un contratto di 10 anni Il prossimo appuntamento invece sarà a Austin, Texas Il circuito delle Americhe Uno dei circuiti più adatti per le Formula 1 Differenze invece di quello che abbiamo visto in MotoGP Dove effettivamente soprattutto in Moto3 sono gesti sfracelli E dunque anche in quel caso aspettatevi il Racing Podcast Logicamente sarà una gara serale Di conseguenza come può succedere in questi fusi orari Il Racing Podcast uscirà il giorno dopo Probabilmente la sera dopo Un po' come in questa occasione dove abbiamo fatto il Racing Podcast serale In ogni caso fatemi sapere cosa ne pensate di questo Duello mondiale che è arrivato alla sedicesima puntata Adesso Verstappen è in testa Con sei punti di vantaggio su Hamilton Tappa favorevole evidentemente all'olandese Ne mancano sei alla fine ancora tutto È in gioco e vediamo che cosa ci riserveranno Appunto le ultime sei competizioni del campionato E saluto da parte di MetoTorger Ci vediamo a un prossimo video